Eccoci a Varese per una serata davvero particolare, sempre un piacere incontrarti e rincontrarti. Sempre un piacere incontrare te, poi noi siamo depressi positivi, non c'è peggio che un depresso positivo consapevole, incazzato. Incazzato soprattutto. Immigrazia, nuovo singolo e hai voluto lanciarlo nelle radio, una bella provocazione. Le radio, sai, non scartano neanche perché tu hai la mail dove puoi vedere se scartano la canzone. Al di là del fatto che poi la trasmettano o no, al di là del fatto che sia un brano poi comunque orecchiavile, discutibile nel testo, però arrangiato come idoneamente potrebbe entrare nella mischia, è un testo che racconta tutto quello che sta succedendo in questi anni, soprattutto da 6-7 anni a questa parte, dove c'è un'immigrazione che non c'entra niente con gli emigranti nostri, dall'Unità d'Italia in poi o dal dopoguerra in poi, che invece erano proprio richiesti, cioè il Paraguay, la Nuova Zelanda, l'Australia, le Americhe, il Brasile, richiedevano proprio mano d'opera. E c'è una frase importantissima appunto, perché parliamo di immigrazione, io vi consiglio di ascoltarlo questo pezzo di immigrazia, perché non c'entra niente con gli emigranti di una volta, c'è una frase importante di Pascal D'Angelo, che è un emigrante storico, che disse, ci hanno detto che in America ci sono strade d'oro, ma non ci hanno detto che le dobbiamo costruire noi, in realtà invece gli emigranti, anzi i migranti che vengono qui in Italia, non fanno niente, ovviamente, poveri loro, però se non c'è il lavoro, non c'è mano d'opera, uno Stato che accoglie e non ha una forza lavoro appunto che manda avanti il PIL, o se lo manda avanti, lo manda avanti per 2 euro all'ora, 3 euro all'ora, allora non ci servono, poi siamo diventati la spiaggia d'Europa, perché nell'Austria e la Germania stanno chiudendo tutte le porte, quindi che cazzo facciamo, cioè se tu metti l'acqua in un bicchiere a un certo punto poi l'acqua va fuori. Senti, è una canzone che comunque avevi già presentato al tuo pubblico, solo in versione chitarra e voce, a luglio, e già allora, mille critiche, mille commenti, soprattutto negativi me. No, vabbè, sì, negativi su web, poi sai su web è facile dire razzista, demagogia, populismo, qualunquismo, xenofobia, ma in realtà poi è vero, perché tu dovresti chiedere a queste persone quante persone sei disposto ad accogliere in casa tua in un momento in cui l'Italia soffre una grande crisi, oltre che ideologica e culturale, soprattutto finanziaria e di lavoro, cioè non essendoci il lavoro per le persone italiane, anche se sembra un discorso populista, ci sono italiani che dal 1945 in poi hanno ricostruito questo paese, nel 48 è stata scritta una costituzione, i nostri nonni e bisnonni ci hanno lasciato un terreno, una casa, un qualcosa di proprietà, quindi insomma c'è gente che ha ricostruito questa nazione qui e vederla appunto, come dire, depredata, oppure impoverita, oppure addirittura distrutta da altre culture, da altre tradizioni, senza rispettare le nostre, è una cosa che dà fastidio e cito un mio amico che si chiama Mohamed, non a caso, che è marocchino, che dice hai ragione, in Marocco prima i marocchini, è la stessa cosa che direbbe qualunque persona sana e di buon senso nel suo paese, se non c'è lavoro, se c'è lavoro perché siamo il paese più accogliente del mondo. Mentre noi ci si sulle pepovi e dice siamo italiani sulle mani. Eh sì, sulle mani, ma sulle mani che fra un po' ci arrestano, perché sarà tutto fuori legge, cioè la parola populismo è una parola che demonizza il popolo, cioè quando tu parli a favore degli italiani, della nazione, del territorio, del made in Italy, viene etichettato con questi termini, il contrario è anti-italiano, quindi anti-populista, quindi più europeo, che l'Europa va anche bene, però c'è un'Europa giusta e un'Europa brutta, noi siamo nella seconda, quindi va bene il sogno europeo, magari se ritornassimo ai trattati del 1957 forse ognuno in casa sua decide quello che fare, le sue politiche commerciali e monetarie, allora va bene, da quando è entrato appunto Maastricht nel 92, poi Schengen nel 97, poi Lisbona ratificato nel 2007, capiamo che ogni giorno che passa ci sono sovranità che vengono cedute, quindi siamo diventati un supermercato, un discount, dove la gente arriva, saccheggia, ruba, compra a basso prezzo, si comporta male, quindi c'è un'immigrazia, c'è un'immigrazione non solo di persone, ma emigrano anche i capitali, le aziende delocalizzano, spostano le sedi all'estero, la Fiat fa arrivare le macchine qui che però sono prodotte in Romania, quindi l'Italia è destinata ancora una volta ad essere colonizzata, io lo faccio attraverso la musica, cerco di denunciare queste cose, però mi sono anche abbastanza stufato perché parlo ad una stupida maggioranza silenziosa che è quella che viene da me e mi dice non ti preoccupare, vai avanti a me come tanti altri, vai avanti che la maggioranza silenziosa è con te, quando io sento sta frase vorrei prendergli a schiaffi, quelli che me la dicono. Ma qual è quindi il ruolo della musica in tutto questo? Eh beh la musica se viene trasmessa per radio accende un dibattito, se un brano come Immigrazia o come, che ne so, ti cito dei miei brani che magari qualcuno non conosce, però il debito pubblico o la soglia del 3%, che ne so, chi comanda il mondo, non so, io non sono democratico, ci sono dei brani che sono sia ironici che seri, che se diventassero famosi, se diventassero dei successi accenderebbero il dibattito, quindi qualche economista, qualche giurista, qualche opinionista o intellettuale si aggancia, quindi se si accende un dibattito sia mai che la gente poi capisce un pochettino di più che cos'è un deficit, che è positivo, invece ci hanno fatto credere che è negativo, che il debito pubblico è la ricchezza al netto dei cittadini, mentre ci fanno credere che il debito, oddio, ah guai, guarda Emma Bonino che dice, non lo so, meno debito più opportunità, in realtà più debito più opportunità, perché uno Stato che ha la propria moneta se spende a deficit e se fa iniezioni di liquidità, quell'economia, quei soldi girano tra i cittadini, poi l'evasore c'è, insomma queste cose si combattono ma non hanno mai tolto un singolo letto di ospedale, gli evasori fiscali o quelli che appunto rubano o sgraffignano. Ecco, se si accendesse un dibattito su una cosa che io adesso ho detto un po' in maniera così veloce, perché siamo in televisione, quindi stiamo facendo un'intervista ad ampio spettro, se si accendessero dibattiti la gente capirebbe sicuramente di più, eh probabilmente non fa comodo sta cosa. Anche perché comunque tu già undici anni fa dicevi perché la musica non ha mai cambiato il mondo ma chi potrebbe ancora non l'ha fatto. Eh appunto, cioè i gestori, ci sono sempre scelte politiche, cioè parte tutto sempre da Roma, da un Parlamento che oramai è diventato un Parlamento satellite perché il vero potere sta a Bruxelles in un Parlamento dove chiacchierano ma non possono fare le leggi, sta alla Banca Centrale Europea che ha Francoforte, sta a Washington al Fondo Monetario Internazionale, nelle banche il potere sta nell'aver privatizzato tantissime cose e nel privatizzarne altre in futuro e quindi sì, la scelta politica sta a Roma. Se ci fosse una classe politica con le palle, eh giustamente si opporrebbe a tutta questa gente qui che da Bruxelles poco gli frega. L'importante è che tornino i conti, solo che per dirlo a una persona come mia nonna io non ho mai visto un computer che muore di fame, quindi noi cerchiamo di togliere i risparmi ai cittadini italiani per arricchire un computer. In realtà il computer non morirebbe di fame senza quei soldi mentre i cittadini italiani sì. Senti sempre in quella canzone che ti ho citato dicevi un bambino chiede perché si fa la guerra, se siamo buoni cos'è la cattiveria? Piccolino capirai che sono imbroglie? E che il motivo vero della guerra sono solo i soldi, sì i soldi, il controllo, vedi in Medio Oriente no? Quello che succede. Ma poi bene o male, tu ti si dice Povia è diventato populista, Povia ultimamente cavalca l'onda, sono passati 11 anni da quel brano. Sì in realtà è dal 2003 che tu vabbè che mi conosci, gioco in casa, il 2003 avevo fatto quel brano mia sorella che parlava dei disturbi alimentari, di questo problema fra virgolette della bulimia, dell'anoressia, del rapporto con il cibo e da lì i bambini fanno nel 2005, due anni dopo, il brano più politico che ho perché appunto per agganciarmi a quello che hai detto tu sono i grandi che insegnano la guerra ai bambini, sono i grandi che insegnano a litigare o ad essere cattivi ai bambini, è mai il contrario. E poi dai bambini fanno in poi nei miei dischi ho sempre messo comunque sociale, ho sempre tradotto in musica dei temi che probabilmente non piacciono come temi per i quali si può accendere un dibattito, perché la musica se accende il dibattito può cambiarle le cose, purtroppo non le cambia e gli artisti si agganciano. No, la musica non cambia, non cambia le cose, si scrivono pezzi sociali ma molto leggeri. E a chi dice Povio non è diventato un tuttologo, tu cosa rispondi? No, invece purtroppo sono un grande ignorantone che parla soltanto delle cose che gli interessano, cioè a volte qualcuno mi cita qualche cosa o qualche argomento e io dico guarda non ne so niente, ma come tu che parli su internet? Eh io studio solo quello che mi appassiona. E tra l'altro appunto un nuovo controllo mondiale da questo punto di vista è l'esempio di voler parlare di qualcosa comunque di cui nessuno parla. Eh non se ne parla di questi temi perché poi sai, gli artisti hanno paura di non lavorare. Come poi, ahimè. E che infatti vado in giro a rimborso spese. Beh però diciamo che quello che non è mai mancato è stato l'appoggio del pubblico perché comunque i tuoi live sono sempre nel bene e nel male pieni di tanta tanta gente, tante persone che cantano le tue canzoni, anche quelle più recenti. Sì, chi è incuriosito, io penso che la cosa più bella del mondo sia la curiosità, che come disse Al Pacino in Profumo di Donna, se smetti di essere curioso sei bello che è morto. Chi casca nei miei concerti o per volere o per caso poi giustamente scopre che c'è un lavoro dietro, c'è un cantautore, che piaccia o non piaccia. Non può condividere sicuramente tutto ciò che canto e che dico per ovvi motivi di vita vissuta. Però apprezza sicuramente il coraggio delle idee. Chi non casca nei miei concerti vive nel pregiudizio. In realtà non avendo i media dalla mia parte posso soltanto parlare e cercare di convincere chi mi sta guardando in questo momento. Se vedete una data in calendario su Facebook, che è l'unica piattaforma multinazionale che uso per promuovere la mia musica assieme ad Apple che al computer che mi permette di pubblicare, però lo uso appunto in modo lavorativo, intelligente, venite a un concerto perché andate via con un punto di vista in più, non è che io abbia la verità assoluta. Però mi ci avvicino negli argomenti che tocco perché li studio. Anche perché poi il nuovo controllo del mondiale è diciamo che è autoproduzione pura. È autopromossa, autodistribuito, non si trova da nessuna parte. Io stesso poi tra l'altro dico che è un disco che uno dovrebbe comprare. Lo puoi comprare solo a Giuseppe Povia, chiocciolavodafone.it. Una copia costa 15 euro, due copie 20 euro. Non lo trovi da nessuna parte, neanche sui portali digitali. Questa è una scelta che ho fatto io. Faccio tante date a rimborso spese e la gente quando ti conosce poi acquista volentieri il disco. Perché no? Giuseppe, io non posso che ringraziarti, ma senti, domanda forse più da fan. Immigrazia, nuovo disco quindi. Sì, sì, un nuovo disco lo faccio perché ci sono degli argomenti che mi sono rimasti qui che non sono riuscito a mettere nel nuovo controordine mondiale. Quindi un altro disco di 10-12 brani, lo sto pensando, non ho ancora messo le mani. Però Immigrazia sì, ci rientrerà. Voglio parlare del cambio fisso, che è un'altra fregatura che c'è stata. Il cambio fisso, un euro è uguale a un euro tedesco, che è uguale a un euro belga, che è uguale a un euro austriaco. In realtà questo cambio fisso ci ha fregato. Perché noi potevamo svalutare la nostra moneta e svalutare, io parlo sempre in gergo economistico perché seguo il dibattito degli economisti, quindi non sono parole mie, potendo svalutare una cosa puoi anche competere sul mercato. Infatti se ti ricordi negli anni 70-80 noi eravamo pieni di Fiat, non so se vi ricordate la Croma Turbo Iniezione Elettronica o la Lanciatema Turbo Iniezione Elettronica, a parità di prezzo, a differenza di prezzo, una Golf ti costava 25 milioni, una Croma ti costava 15 milioni, l'italiano diceva c'ho una grande Croma, risparmio 10 milioni e mi compro una Fiat. Oggi invece una Panda costa 10 mila euro, una Golf ne costa 15, uno fa le rate e si compra la Golf e i tedeschi vincono per la terza volta. Ma quanto ti fa incazzare dire Povia è quello del Piccione, quello dei bambini Fannò? No, ma meno male, pensa che ci sono artisti che sono quelli di niente, quindi no, no, del Piccione. Poi ai concerti spiego che i Piccioncini erano i miei nonni, sono stati insieme tanti anni, hanno ricostruito insieme ad altri nonni l'Italia e dei bambini Fannò è la mia nel blu dipinto di blu, io nei concerti la faccio sempre due volte, a parte questa sera che è una serata importante anche questa assieme all'avvocato Gianfranco Amato dove facciamo musica e sociale, traduciamo dei temi che non dicono in tv. Senti, io non posso che ringraziarti e ti chiedo un saluto per All Music Italia. Un saluto a tutti voi di All Music Italia, hai visto che resistete, esistete ancora, poi adesso c'è lui al timone, quindi ciao. Grazie.